E allora eccoci qui amici Rossoneri, ben ritrovati sul nostro canale YouTube dedicato al Milan Milanello Iscrivetevi in questa zona, lasciate tanti like Cagliari che è già salvo, lo sapete, il Benevento ha pareggiato Loro hanno festeggiato addirittura fino a poco fa nell'albergo con anche birra, canti, eccetera eccetera Ma dobbiamo rimanere concentrati Formazione ufficiale, dobbiamo vincere Dobbiamo vincere con Donna Rumma, Calabria sulla destra, Teo Hernandez sulla sinistra Al centro i titolarissimi, Kier e Tomori Che si bene a sera centrocampo Sulla destra rientra dopo la squalifica Salemakes che prende il posto rispetto all'ultima partita di Castilleco Confermata la pulce rosonera Brian Diaz al centro o a supporto di Rebic se preferite Che sarà il nostro terminale offensivo dopo la tripletta di tre giorni fa A sinistra c'è la Noglu spostato in quella posizione Tensione, tensione, tensione a mille È il giorno che aspettiamo da tanti anni E che dobbiamo insomma vivere insieme Io ve la racconterò tra poco su QSVS La mia telecronaca che sarà ovviamente molto animata E speriamo poi di rivederci dopo la partita con un enorme sorriso Ragazzi è importantissima non sottovalutare il Cagliari È fondamentale perché possono magari giocare spensierati È chiaro che sulla carta il fatto che siano già salvi può aiutare La nostra formazione ufficiale Il nostro impegno deve essere al 101% Dal primo all'ultimissimo secondo E poi speriamo possa arrivare quel momento che aspettiamo da tanti tanti anni Vi ricordo di iscrivervi in questa zona ragazzi per non perdere nulla sul mondo del Milan Lasciate tanti 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 like Ogni visualizzazione deve essere un like Oggi più che mai Forza Milan Oggi più che mai Domani ancora di più Sì sarà sempre un crescendo Ma oggi più che mai Forza Milan Vi mando un abbraccio A dopo A dopo A dopo A dopo A dopo A dopo